Giovede Montese del team Svea Gascande all'ingresso della zona 15 va a andare a chiudere la sua gara questo l'ostacolo che viene curato va a superare la giudice è in balza molto bene, non ha nessuna sbagliatura in questo passaggio Gianluca bravo Gianluca, ben passaggio, un po' non va per il momento mi arriva un solo po' la parola ti meriti e andiamo a troverlo